Ciao, siete pronte? Super carica. Allora, aspetta che ho questi che mi danno fastidio, non li sopporto più. Eccoci qua. Allora, oggi pronte per qualche altra novità. Vi ringrazio, grazie Beatrice che sei stata contentissima delle cose, ma tu sei bellissima, lo credo che a te sta bene tutto. Sei giovane, sei bella e scommetto che sei anche ricca. Sei ricca di gioia perché è un viso solare al 100%. Sei bravissima, sei gentilissima e una vocina proprio stupenda. Pronto? Sigla! Eccoci qua. Non ho bevuto, ragazze. Non ho bevuto. Non ho ancora bevuto. Non ho ancora bevuto. Tante cose da dire e dico quello che penso. Ok, oggi ho flitte da primavera. Stupendi. Ricordiamo abilmente, siamo abilmente la prossima settimana. Ecco il camera. Ciao ragazze! Vi mancava? Ecco il camera. Dai, forza. Dai, abilmente. Abilmente, fra otto giorni, meno otto, giovedì, venerdì, sabato, domenica della prossima settimana, padiglione 620, standard 620, padiglione numero 7. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, pronte? Siamo pronti? Eccoci qua. Allora, primo offrite di primavera. Pantalone. Pantalone con inserti maculatini, pisso, faiettine. La nostra magliettina in caldo cotone. Io l'ho abbinata così con il grigio melange. Gli ultimi maglioncini, gli ultimi maglioncini caldissimi, perché come vedete la mattina abbiamo 3-4 gradi, per fortuna non più il meno 1, meno 2, meno 3. Arriviamo a luna con 15-16 gradi. Ragazze, meraviglioso. Vuol dire che la primavera sta entrando. Benissimo. Allora, maglioncino in viscosa, in viscosa caldo, più lungo dietro, più corto davanti. Facilissimi da lavare. Si lavano in lavatrice. Sono caldissimi. Sono proprio gli ultimi maglioncini, perciò affrettatevi, perché non ho tantissimi colori. Io questa mattina ho fatto questo offrite così. Pantalone, con il cavallo leggermente sceso, con qualche inserto. Sono leggeri, vestono, stanno divinamente, come vedete io li ho sempre. Sono fantastici. E questa pasmina in caldo di cotone, con i loghetti glitterati, stupenda, bellissima. Guardate che meraviglia. Ciao a tutte le ragazze che mi seguono, tutte le mie clienti, le mie amiche. Ciao Sandra, ciao Simonetta, ciao Jenny, ciao Giorgia, ciao Rosella. Ciao Gabriella, come stai? Spero tu stia bene. Ciao cara. Quando ti rimetterai, verrai qua a prenderti le cosine. Ciao. Eccoci qua, magliettina, color setto, che quest'anno, come avete visto, festeggiano il Teddy, che è il suo anniversario. Non ho capito bene di quanti anni, tantissimi. Io lo abbinerai con questo pantalone, color setto sotto. Adesso questa mattina faccio un passiere al camera. Passo da una cosa all'altra, vediamo se lo sveglio. Ecco qua. Sì, una cliente gentilissima ci ha consigliato, perché purtroppo, purtroppo, o per forze maggiori, come faccio io, non sono capace più di tanto a scrisciare e poi mandare le foto. Quando chiamo anch'io, che prendo qualcosa online perché mi attirano, e poi dico, ma quella cosa lì, come si chiamava? Ci ha consigliato di numerare i capi per essere una cosa? Grazie. Grazie. Anche per noi sarà più pratico, noi numereremo le cose, perciò voi dovete dire il capo 1, il capo 2, il capo 3. Poi guardate, voi chiamatemi, chiedetemi che io vi dirò anche come funziona e come sono i capi. Ditemi in grosso modo come sono i capi. Senti, ecco il camera di nuovo. Camera ti ha messo in stand by. Guardate, magliettina, le prime magliettine, perché mettiamo sopra una t-shirt, mettiamo un maglioncino, mettiamo sopra una camicia, poi c'è caldo, ti spogliamo, guardate che meraviglia questo outfit. Un'altra magliettina col teddy. Questa è una misura piccola perché l'ho presa per una bambina di 12 anni, però arriva anche in altre misure. Perciò, guardate che meraviglia, anche questa qua, simpaticissima. Un'altra color setto, sempre con il nostro teddy, questo la possiamo portare anche noi se siamo un po', non dico vecchiotte, ma un po' più grandi. Hanno le perle, queste sono perle vere nel girocollo. Guardate che meraviglia, anche questa qua in diversi colori. Ho preso colori così per l'attimo. Un altro outfit bellissimo, le nostre magliettine maculate. Che la nostra amica Antonina l'ha presa nera, ha detto che è stata contentissima perché vestono, sono, non dico calde perché è una viscosa, però giustamente pratiche perché si mettono, le ho messe anch'io con la capospalla in felpa di cotone, martedì sera, perché per paura che il camera si invitasse a casa mia, mi sono auto invitata da una mia amica. Ecco qua, con lo spolverino antivento che è meraviglioso, questo è uno spolverino in tessuto impermeabile, guardate che bello perlato. Questo c'è così, è rimasto questo e il beige più chiaro perché sono proprio gli ultimi. Io ho abbinato questo super marsupio che è stupendo, praticissimo perché quando si esce che non si vuole avere la borsa a mano per fare shopping o per fare la spesa, abbiamo il nostro marsupio che è molto contenitivo e abbiamo le mani libere. Sempre la nostra prasmina in garza di cotone e il pantalone, scusatemi, vedete che il camera stamattina, lo allungo fra stretching il camera. E dopo arriva a venerdì che non ho più spalle. Dovresti pagarsi perché invece di andare in palestra, lavori, guadagni, dovresti pagarsi tu e fai anche ginnastica. La sera mia moglie fai i massaggi e facciogli. Va benissimo, così va bene, così avete un contatto fisico, durante la giornata non vi siete visti e così andate a fare la sera. E Willy in coppetta giustamente che fa il cavalluccio. Pantalone in punto Milano, anche questo, questo manichino è molto brutto perché è piccolino, però dai, anche lui dobbiamo fargli fare il suo lavoro che è molto bello così. Un'altra novità, questi sono dei gaban imbottiti, tipo 100 grammi, hanno un taglio particolarissimo, questi sono stati fatti dalla nostra sartoria interna. Chi lo volesse in qualsiasi colore, questo è molto particolare, è una cappa in pratica, guardate che meraviglia. L'esistente, il modello esistente era senza maniche, io ho fatto aggiungere la manica perché ho detto senza maniche, magari visto che l'inverno è stato un po' particolare, ho fatto aggiungere la manica, perciò si portano un po' di più. Hanno le due tasche, è meraviglioso, ha una bottonatura laterale, guardate che meraviglia. Questo ve lo possiamo costruire in tutti i colori, è molto molto bello da portare anche adesso, è particolarissimo. Magliettina in jersey di viscosa, le nostre magliettine veloci, che si porteranno anche in estate inoltrata perché sono leggerissime e cascanti. Il pantalone con il bottone laterale, molto bello anche questo. Ho il manichino che con tutte queste feste si è ingrassato, perché vedete che il bottone addosso a me non tira, addosso a lui tira. Si è ingrassato guardando lui? Sì, ha mangiato troppe fritelle, dai. La nostra pasticceria è vicinissima che fa quelle fritelle ragazzi. Vincoli i premi. Hanno vinto la miglior fritella di estesi, che ce ne sono i pasticceria con estesi. Guardate, è una cosa meravigliosa. Ok, benissimo, ritorniamo a noi. Collana, la nostra collanina con il logo che richiama la pasmina, in battista di cotone, in gavetta. Questa c'è con il fondo nero, con il fondo beige, con il fondo lazzurro, che l'ho messa nel outfit di prima. I nostri 100 grammi. I nostri 100 grammi che non si troveranno più, perciò affrettatevi, perché adesso c'è ancora freddo, però fra 15 giorni ci serviranno alla grande. Questi ci sono in bluetti, in fucsie, in verde e in smeraldo, perché c'è l'ultimo in verde mela che non si trovano più. E in bianco. È l'ultimo in verde mela. Perciò, a chi piace il verde mela, affrettatevi, perché è proprio l'ultimo, non si trova più. Un altro outfit bellissimo. La nostra magliettina maculata, come quella che vi ho fatto vedere nel capottino. Anche questa è rimasta l'ultima. Pantalone con il cavallo sceso. E questi cavi a ovetto, che sono meravigliosi. Quindi, questo mi è rimasto il nero, il giallo e il tinta jeans. Questo lo possiamo anche mettere sopra il maglione di prima. Infatti, che meraviglia. Questi sono bellissimi. Ecco qua. Bellissimi. Ecco qua, foto. Mi raccomando il numero 388. Mi raccomando. 388. Non sbagliatemi col 348, il 338. 388. Mi raccomando. Quella povera creatura di Manuela. Che ci dispiace tantissimo. Come vi dicevo l'altra volta, gli farò un super regalo, perché poverina. Un'altra tutta bellissima. In felpa di cotone. Questa mi è rimasta solo l'azzurro. Bellissima. Pantalone con il cavallo sceso. E la maglia di felpa più lunga dietro e più corta davanti. Stupenda. Molto, molto bella. Bellissima. Le nostre camicie. Ve le faccio vedere velocemente. Non importa, dai. Così mi aspettano. Allora, la nostra camicia. Un'altra camicia bellissima con le punte. La nostra camicia con le perle. Queste sono rimaste ultime, perciò affrettatevi, perché queste non so se dopo arriveranno ancora, perché fra poco le camicie le porteremo alla grande. In bianco, come quella azzura, sono in puro cotone e costano pochissimo. Costa 400 euro, come scritto lì, eh. Qua cosa c'è scritto? 3,99. No, ragazze. No, c'è uno zero in più. Sì, c'è uno zero in più. Questa qua, guardate com'è fatta questa. È stupenda. Bellissima. Con la coda dietro, senza collo, chi non ama il collo, il bianco e nero, perché di solito prendiamo sempre il bianco e il blu, tutta bianca, tutta azzura, con il collo laterale, con il collo AB. Anche questa è molto bella. Questa veste fino alla 52, perché va giù svasata. Con la punta laterale, molto bella anche questa. Così la possiamo vedere meglio la dura, quella l'ultima, scusami. Ecco qua. Guardate che meraviglia, ragazze. Affrettatevi, perché sono proprio le ultime. Il bastoncino classico. Un bastoncione? Un bastoncione, più che un bastoncino. Comunque molto bello, perché è da portare col pantalone bianco, con i jeans, anche con il pantalone nero. La camicina frufru, guardate che meraviglia, con tutta l'ajur attorno al caray, attorno alle maniche. Un altro bastoncino, questa è fatta diversa, ha le laterali con le pieghe, sempre più lunga dietro e più corta davanti. Molto bella anche questa qua. Questa l'abbiamo già fatta vedere. Un altro hoplitz bellissimo. Camicia bianca, con la punta laterale. I nostri maglioncini, che vi dicevano che è tornato qualche colore, in viscosa, sono bellissimi e costano pochissimo. Più corti davanti, più lunghi dietro. Con il pantalone, tipo Chanel, a palazzo, bianco e nero, piegipulla. Stupendo, anche sto hoplitz qua, molto bello. Il nostro capottino a taglio vivo, anche questo ultimo, questo ricordatevi che veste un 42-44. Questo è un campione. Ha la coda dietro, tutto a taglio vivo, guardate che fantasia. Meraviglioso. La nostra giacchina in tessuto tecnico, sfiancatissima. Questa è una camicia giacca. Questa si porta con un pantalone nero a palazzo, con una gonnellona. Io l'abbinerei benissimo con la nostra gonna. Scusa, camera, se sono sparita, per non portare lo stander qua, che dopo è una trascitta. La nostra gonna a pantalone, con i piedi, con il pallone grande. La nostra gonna svasatissima. Ecco, io farei un hoplitz così. Sotto camicia bianca, magliettina. Meravigliosa. Poi, le nostre magliettine. Le camicie leggerissime, in battista di cotone. Anche questa è rimasta, questa con il poire. E quella con le stelline. Perché ho fatto questo offlet, che è di Margherita. Se qualcuno lo desiderasse, posso vedere in magazzino se c'è ancora. Chanelino, bellissimo. Ciao Margherita. Non te lo vendo, te lo prometto. Lo faccio solo vedere. Con la camicina, con i cerchi, tutti in rilievo. E il pantalone, come il mio. La banana, che è bellissimo. Ecco, se qualcuno... La nostra collana Chanel. Se qualcuno piace, finché c'è ancora in magazzino, dovrei andare su questi giorni. Speriamo di riuscirci, perché siete tante. Le nostre magliettine in viscosa, che vi dicevo prima. Più lunghe dietro e più corte davanti. I nostri magliettini, che sono gli ultimi. Verde olio, il cammello e il beige. Bellissimo. Sì, da noi c'è tanta anemia. Da voi spero che ci sia il sole. Solo una... Ecco, una ragazza ieri ci ha mandato uno sessiotto dicendoci che si vedeva tutto sgranato. Mi dispiace, è proprio la mancanza di internet. Mi dispiace. Pantalone a ovetto. Con la maglina. Questi sono tessuti tecnici. Punto Milano. Con la maglina. Con il collo. A camino. Guardate che meraviglia. Collo a camino. Più lunga dietro. E più corta davanti. Il pantalone, guardate che meraviglia, con le taschine dietro. Stupendo. Questo possiamo mettere sotto una magliettina in caldo cotone grigia. Una magliettina in caldo cotone nera. Una magliettina in caldo cotone. Anche un verde più scuro perché sono colori che questi stanno bene con tutto. I nostri vestitoni. Ricordatevi che i nostri vestitoni bellissimi. Adesso il prezzo si possono portare come camice. Questo c'è in beige e in nero. Vediamo se c'è ancora il nero. Sì, è rimasto l'ultimo nero. Guardate che meraviglia. Questo lo portiamo adesso come maxi maglia e poi lo portiamo come vestitiva. Sono bellissimi. Molto belli. Abbiamo già qualcosa da mare. Adesso questo mi dispiace da stirare perché è leggerissimo. È in fiocco di cotone. Guardate, tutto lavorato a uncinetto come facevano le nostre nonne. Questa è una camicina che si può portare anche con i jeans. Non hai detto che sia proprio da mare. Ti faccio sognare un po' di mare. I nostri vestitoni. Questo l'avevo preso. Vuoi farmi vedere cose semine in uno spazio così? Ma ti voglio vedere, camera, come riesci su uno spazio di 20 centimetri a fare vedere un'inquadratura da mezzo metro. I nostri vestitini che li ho ritrovati, che sono bellissimi, in cotone e in lino. Anche questo che l'ha preso una nostra cliente. Ce lo sta già preparando per l'estate. Bellissimi. Anche questi qua sono fantastici perché sono veloci, si lavano, non si stirano e sono pratici. Un altro bel vestitino. Questo con colori e fantasie più etniche. Ecco il camera perché si sta allungando. Guardate che meraviglia anche questo qua. Vedete i lampi? Questo veste fino alla 50. 50-52. Sono in viscosa. Fantastici. Sono molto molto belli. Allora, siete pronte? Per l'estate? I nostri vestitini in maglina crepe. Una maglia di crepe Giorgette. Foderati. Il corpo è solo foderato. E la manica più di strello. Anche questi vestono tantissimo e vi prometto che sono leggerissimi. Posso vedere quel vestitino? Ecco signora, prego. Grazie. Ciao tesoro. Molto gentilissima. Sono stupendi perché sono leggeri. Si lavano e non si stirano. E i fluttuanti quando si cammina sono fluttuanti. Taglia unica? Taglia unica, signora, sì. E posso sapere il prezzo? 39. Ok. E questo, scusi, si interviene con più? 39, anche quello lì. E ha una variante unica? Taglia, sì. E hai taglia? E no, variante unica no. Quello lì c'è così oppure c'è quei colori della terra. Eccolo qua. Abbiamo due clienti bellissimi che lo sfido. Adosso a loro le cose staranno non bene di più. Mi fanno fare bella figura perché le mie clienti sono tutte belle. Avete visto anche signora un cardigan verde lungo? Sì. Me lo può dare. Certo. Ecco qua. Ecco, vendita in diretta. Ecco qua. Il verde, il verde. Allora, il giallo e il labio. Verde, verde. Allora, signora, venga qua. No, ma forse è qui sotto questa catastrofe. Vediamo qua che perché abbiamo appoggiato tutto, ma adesso facciamo presto a levare. Ma è bellissimo. È il bello della diretta. Deve essere così. Il bello è così. Allora, guarda. Adesso leviamo le camicie. Il bello è della diretta. No, adesso. Ecco qua. Eh, non lo so. Venduto? No, non ho visto che. Guardi. Guardi pure. Eh sì. Verde, nero, ce l'ha e carta di zucchero. Beh, ma ora che l'hai detto, l'hanno o voglio? Eh, perché ho qua delle maxi maglie, ma non le ho ancora presentate. Comunque, guardi, signora, guardi pure. Le lascio carta bianca. Posso guardare in queste? Guardi pure. In questi pezzi qui? Sì, guardi pure. Eh, lo credo. Non è finito, signora. Cinque minuti. Non ce ne va. Questo cambia tant'azia, ma è come quello. Sì, eccolo qua. Guardi pure. Avete visto, ragazze? Chiudo perché ho già venduto tutto. Ok. Vedete, ragazze, le cose sono talmente belle che i nostri clienti che sono qua non resistono. E se sono come me, che le cose le vogliono subito, preferisco i colori della terra. Benissimo. Adesso è rimasto solo questo. E questi sono proprio questi unici. Questi non ne trovo più. Sono proprio perciò. Se ne troverete un altro in giro, venite qua e io vi disartisco. Perché queste sono cose che non si trovano perché vengono da lontano. Tre giorni di nave, quattro di aereo e cinque di canoa. E va bene, quando ha finito... Ok. Allora, ragazze, io ho tante altre cose a farvi vedere. Voi chiamatemi. Sono qua che vi aspetto. Mi raccomando, non sbagliate il numero 388. Adesso vado dalla mia cliente perché mi ha comprato tantissima roba e ho preso la giornata. Scherzo. Vi voglio bene a tutte. A presto. Grazie. 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 Grazie.